Nell'isola di Pantelleria, alla ricerca delle origini del Moscato, si conclude per questa stagione il ciclo delle strade del vino. Ospiti di Ersicilia, concludiamo il ciclo delle rubriche sulle strade del vino con Pantelleria. L'isola è lì, sotto di noi, adagiata in tutto il suo splendore su un mare azzurro intenso. Il lago di Venere, color ameraldo, testimonia l'origine vulcanica dell'isola. Il lago di Venere Attraversando l'isola, ci fermiamo a tratti dal panorama che si gode da una vallata ricca di vigneti. Di fronte a noi, scorgiamo la cooperativa dei D'Amico. La raggiungiamo ed anche qui, accompagnati da Luca D'Amico, gustiamo il frutto di questi ricchi vigneti. Attraversando l'isola, ci fermiamo a tratti dal panorama che si trovi, Grazie a tutti. 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 Passando davanti l'azienda di Nicola Mead, non possiamo fare a meno di fermarci. Attrati anche qui da un panorama tipico di cantelleria. Attrati anche qui da un panorama tipico di cantelleria. Attrati anche qui da un panorama tipico di cantelleria. Siamo a cantelleria nell'azienda Buccuram, ospiti di Marco De Bartoli. Di solito cantelleria si associa al Moscato e al Passito. Ma è una cosa importante che si possa associare un vino a un territorio. Ed è ancora più importante che questo vino sposato nel territorio e conosciuto dal territorio e per il territorio diventa un fatto turistico. Buccuram è un nome arabo. Come tanti nomi arabi ci sono a Pantelleria. Pantelleria è civiltà araba perché gli arabi, approdando a Pantelleria, hanno approvato indubbiamente delle situazioni pedologiche importanti, per cui hanno sviluppato l'agricoltura. La zona di Buccuram, che forse non era una delle più importanti nel passato, oggi diventa importante perché ha 200 metri dal livello del mare e aperta a tutti i venti. Quindi produce, provoca una frescura alla pianta importante, soprattutto quando ci sono climi caldi e mancante di pioce. E' bello, in un contesto genogastronomico mondiale, che ci sia una punta così importante, se per l'enologia italiana o siciliana in particolare, che si è identificata con il moscato, un moscato pastito. Indubbiamente si tratta di un prodotto che esce dalla stessa uva matura. Il moscato è più facile da farsi e forse più gradevole perché meno impegnativo. Ma il pastito invece diventa un discorso più importante. Mi spiego in termini enologici. Il moscato viene fuori dalla vinificazione delle uve mature ai primi di settembre, mediamente. E' naturalmente arricchita, se ci fosse il caso, di un po' di uva più matura o quasi appassita. Ed è un prodotto che si mette in bottiglia nell'annata. Il moscato pastito, non a caso ho messo questi due bicchieri qua, è il moscato che si vede più fresco, più fruttato, più interessante. Per chi non ha conosciuto il pastito. Il pastito invece comincia ad essere più costoso in termini di lavorazione e anche in termini di costa. Sta di fatto che in gennaio il moscato pastito si può mettere in botti e invecchiare per un certo periodo, non identico per le annate, ma mediamente lo dico che bisognerebbe invecchiare due anni, quello che faccio io. Dagli una possibilità di rimarcare di nuovo l'aroma del moscato pastito e una concentrazione, un colore di ossidazione. Non è a caso che in questo bicchiere, a differenza di questo, si vede un colore più cupo, più intenso, ma dall'aroma si capisce esattamente quello che ho voluto dire in termini enologici. Ma il moscato e il pastito, con che tipo di cibo si sposano meglio? I momenti sono più di fine pasto, perché a fine pasto si ha l'opportunità di mangiare un dolce, più il dolce, più il vino, e rende più gradevole il palato. Prego ad un fratt themino a un flatso delle ricche si autoterie, perché a fine pastore sono più di fine pastipples, rialzare il occhio fl textbooks che in motivi issui più di... alle paure di tutta l'attacco di tutti e uno di due, Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti